Mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accade di assistere in gioventù sul finire dell'anno del Signore 1326. Benedicato. Glielo dovremmo dire? No, potrebbe cercare nei posti sbagliati. E' solo un'autorità in grado di investigare tale materia. La Santa Inquisizione. Sono adolorato di apprendere che uno dei vostri fratelli è stato recentemente chiamato da Dio nella sua pace. Fratelli francescani, voi dovete lasciare questo posto immediatamente. il demonio imperversa in questa abazia. Il vostro arrivo nella nostra abazia è l'esautimento di una mia preghiera. Ecco, mi sono detto, un uomo che ha conoscenza sia dello spirito umano, sia delle astuzie del maligno. Voi pensate che questo sia un luogo abbandonato da Dio? Hai mai conosciuto un luogo dove Dio si possa trovare a suo occhio? Lodiamo il Dio Onnipotente perché non ci sono motivi per sospettare la presenza di uno spirito maligno tra noi, sia di questo mondo che di un altro. Alla fine dell'uragano, con la seconda tromba, il mare si trasformò in sangue e anche qui tutto è un mare di sangue. La profezia dell'Apocalisse! Rinunci al demonio e abbracci Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore? Possa la mia mano non tremare mentre mi accingo a rivivere quegli eventi.